Aspetta il procedimento di erogare con le precise indicazioni dei precedenti proprietari no no ognuno fate l'inquadratura io presto Ma non mi sa mai che fai il bianco Aspettate 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 No no prego eh Scherzoni a bipione A bipione si fa il gavettone No ditemi voi quando partire Ma partite non ti scansiamo il botto Piano piano tutto 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 Quindi piano piano Quindi piano piano Con due e me andrò manchi dentro Fabio ha appena sbattuto le corna contro la mia macchinetta Oh yeah, buongiorno, buongiorno Buongiorno, buongiorno Buongiorno, buongiorno Ciao Sara Ciao Ciao Sara Tu ti sacrificherò Non so che voi fai tu Tu lo sacrificherò Dai, due in uno Prego, prego Quanto sei main stream Main stream? Vai Attenzione alla faccia di Sara Piano 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 da sopra Le ultime parole? Sulla Sara Stronzi Che è quello a fare? Ancora, ancora Ancora A te le trotele fanno una sigla Cioè se tu me ci fai Corp, corp, corp Corp, corp, corp Cazzo Com'è? Acqua, qua andà Ah 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 ma adick, eighteen ah 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 productsca Di qualcosa intelligente? Eh sì, intelligente! Brava! Grazie!